Allora, per me, entrare nell'ufficio dell'imprenditore di una grande azienda e vedere una libreria del genere, dove ci sono tutti i principali best-seller della formazione degli ultimi 30 anni, ma soprattutto dove svettano, guardate qua, tutti i miei DVD dei primi anni del 2000, leader di te stesso, originale, prima versione, 2004, hardcover, tutti i miei libri in mezzo a tutti i numeri 1 della formazione già mi dà una grande soddisfazione e grande godimento, ma soprattutto vedere che tutto questo non è rimasta solo teoria, ma è stato applicato alla grande, trasformato in risultati importantissimi da un imprenditore che è partito da zero, si è formato, è cresciuto, è migliorato, ha osato e adesso ha creato da zero un'azienda con oltre 500 collaboratori, con più di 100 milioni di fatturato, che viaggia veloce e spedita verso i 200 milioni, insomma una favolosa storia di successo che vi racconto in questa puntata del mio vlog, parliamo di Ottavio Sartori e di Arredissima. Allora siamo in Veneto, terra di lavoratori, terra di mobilifici anche, e siamo qua con Ottavio Sartori, ciao Ottavio, che è il titolare e il creatore del marchio Arredissima, ma soprattutto la tua storia è, a mio modo di vedere, veramente bella, è di ispirazione, sei uno di quelli che è partito da niente, che si è creato da zero, che ha fatto all in, che si è giocato tutto, quindi io citerai veramente, e diciamolo, noi ci siamo incontrati poco tempo fa, questa ve la devo raccontare, perché io ero a questo convegno di imprenditori dove erano poi invitati degli imprenditori di successo a raccontare, a testimoniare la loro storia, e io mi siedo lì, ero nelle prime file, e il primo eri tu a parlare, e lui inizia dicendo, io ho visto poco fa Roberto Re qua, e devo dire, mi sono emozionato che è stato il mio primo formatore, tutto è partito da lì, e quindi io, insomma, alla fine sono andato, sinceramente, con le decine di migliaia di persone che vedo ogni anno, non mi potevo ricordare di te, che poi probabilmente, diciamolo, quanti anni fa, era una ventina di anni fa? Eh, una ventina di anni fa. Eravamo diversi tutti e due, quindi difficilmente potevo riconoscerlo, però poi sono andato a chiacchierare e ho detto, io voglio raccontare la tua storia, del mio vlog, perché è veramente bella. Allora Ottavio, da dove sei partito, come inizia tutto questo che adesso hai creato, quindi da zero, a un'azienda che fattura 125 milioni e punta ai 200, insomma, e sta spaziando in tutta Italia, crescendo in tutta Italia, da dove sei partito e come sei arrivato fin qua? La mia avventura, diciamo, è iniziata all'interno di un magazzino di Benetton, quindi sono partito come magazziniere. Là ho conosciuto il mio attuale socio e ho cominciato a fare un percorso, perché purtroppo, quando avevo 16-17 anni, ho deciso di mollare la scuola e iniziare un percorso lavorativo. All'interno del Benetton mi sentivo in magazzino. Quindi tu ero un magazziniere? Era un magazziniere di Benetton, grande. E quindi là mi sentivo stretto, abbiamo deciso a tempo perso di fare venditori porta a porta, io e anche il mio socio, per cominciare a scaldarsi le armi. E' un classico che a scuola non aveva un granché di voglia di studiare, quindi si è andato a lavorare da giovane, magazziniere, step successivo venditore porta a porta. Là decidiamo di licenziarsi entrambi, io e lui, io inizio, rilevo un laboratorio fallito che lavora a conto terzi per Benetton, con 6-7 persone, da là 6-7, le porto a 15, le porto a 20, a 50. Alla fine avevo tre laboratori, facevo conto terzi per questo Benetton e lui ha iniziato a fare il venditore porta a porta per un'azienda di mobilificio. E nel frattempo ci incontravamo per raccontarsi le avventure, come va, come non va, eccetera. A un certo punto decidiamo di iniziare con aprire il primo mobilificio, anzi lo apre lui, io mi aggrego dopo due mesi, tre mesi. E come parte sta cosa del mobilificio? Perché lui aveva iniziato a lavorare per un mobilificio, faceva il consulente, l'arredatore, poi è diventato il direttore e il direttore ha litigato con il titolare dell'epoca e ha detto che da oggi a domani è stato buttato fuori e lui per sfida ha deciso di aprire il primo mobilificio. Dopo tre mesi che ha aperto questo mobilificio è venuto da me una sera insieme con la moglie e mi ha detto, Tavio, guarda, io sono bravissimo commercialmente, però mi manca tutto quello che è l'amministrazione e la finanza e controllo gestione, eccetera, eccetera. Se vuoi entrare in società con me, ho accettato, quindi iniziavo le 7 di mattina in laboratorio, finivo alle 2, alle 3 circa, partivo e andavo in mobilificio fino alle 7, 8 di sera. E questo finché abbiamo iniziato a avviare il mobilificio, abbiamo creato una struttura e con diversi canali di vendita. Come si chiamava il mobilificio? All'epoca si chiamava Nord-Est in grosso mobili. Nord-Est in grosso mobili? Sì, all'epoca era bruttissimo. E infatti a un certo punto ci troviamo con questo nome che è un nome di un territorio e anche una maniera, una strategia di vendita un po' forte e decidiamo, avendo fatto la seconda apertura, abbiamo iniziato a fare un po', avendo un know-how, abbiamo deciso di replicare su un altro territorio, il primo territorio, la prima azienda è stata Torino, il primo punto vendita, decidiamo di cambiare il nome, quindi cambiamo il nome, la chiamiamo Arredissima. la prima parte è stata Arredissima, era nato subito il marchio con un tondo e con il payoff ed è finalmente casa. Andando a un corso a Vicenza che c'era sopra il palco c'era Martin Lindstrom, il numero uno del brand del mondo, e vengo fuori da quella giornata, carico, pieno di energia, eccetera, chiamo la mia responsabile marketing e gli dico da domani voglio il cambio del marchio, voglio assolutamente il cuore e scritto il payoff, passione e amore, tutti quelli che lavorano all'interno di Arredissima, devono lavorare con passione e amore. Perché? Perché volevi identificare, quindi dare questa identità sia all'esterno ma anche all'interno. Anche all'interno, che faccia parte dei valori. Quindi il cerchio diventa un cuore, che è tuttora il brand di Arredissima, passione e amore. In questa fase di crescita mi ritrovo 10, 20, 30 persone e comincio a sentire pagare lo scotto che non avevo, non era andato a studiare, quindi sento la mancanza e la voglia di crescita di formazione personale. E quindi inizio a leggere i primi libri. Comincio a innamorarmi, i libri al posto di, come prima andavo a scuola che vedevo come un obbligo di leggere il libro, ho cambiato il perché e quindi avevo un perché forte, perché mi serviva per poter crescere, per diventare forte, avevo un obiettivo grande. E immaginavo l'autore del libro che era sopra il palco, che si metteva con passione e amore a spiegarmi a me tutte le sue tecniche, le sue strategie. E io quindi il libro lo assorbivo. Questo mi ha fatto crescere molto. Ho iniziato da là a andare in cerca e a cominciare a fare dei corsi. Quindi sei partito con la consapevolezza che se voglio crescere, arrivare dove voglio andare, mi servono più competenze. Assolutamente. Quindi hai iniziato a cambiare, non era più lo studio, la scuola dell'obbligo, ma è voglio imparare, voglio crescere. E hai iniziato, da che libri hai iniziato? Il mio primo libro, Gli sette pilastri successi di Stephen Covey. Sei partito alla grande. Come primo libro, era un libro impegnativo, ma mi ha dato molto perché le priorità, insomma, c'è tanto su quel libro. Certo, tantissimo. E ho iniziato con vari libri e arrivo anche al libro di, il tuo libro, Gli edi te stesso, e là ho detto non posso limitarmi sulle libri, ho bisogno anche di avere, di partecipare a questi corsi per migliorare in più. Hai iniziato, e ho iniziato, ho frequentato un tuo primo corso all'epoca per PNL, linguaggio del corpo, eccetera, eccetera, per poi venire a un tuo corso Emotional Fitness. Tu avevi fatto il nostro programma Fly qui in Vieneto. Il programma Fly. Esatto, è venuto. C'è serata e poi l'Emotional Fitness. Mi ha incuriosito di voler cosa, quindi c'è un mondo e dicono che l'appetito viene mangiando, e quindi sempre con la voglia di fare altro, poi mi sono iscritto al Emotional Fitness e poi ho fatto l'Emotional Fitness, che là mi ha dato un cor di più la voglia di crescere. Peraltro devo dire che con enorme soddisfazione qui da qualche parte nel tuo ufficio c'è ancora scritta la Mission, il lavoro che hai fatto al Leadership Seminar. Che mi ha aiutato molto. Che erano una ventina d'anni fa, più o meno. E sempre nei tuoi corsi ho imparato a usare le mappe mentali che per me sono state fondamentali avendo anche più ruoli e volendo sintetizzare a volte le cose. Le mappe mentali mi hanno aiutato molto in questo percorso e che continuo tutt'oggi a leggere libri, frequentare corsi che mi danno. Cambio anche il metodo perché adesso ho scoperto Audible e quindi adesso che vado a camminare a piedi perché devo tornare in forma alla mattina, allora mi ascolto il libro intanto che cammino e quindi... Fra l'altro, adesso poi vi faccio la chiacchierata, ma poi vi voglio far vedere perché per me entrare in questo ufficio è stata una soddisfazione enorme perché ci sono tutti... Poi vi mostrerò, a parte i libri, i video, ci sono tutte le mie cose qua, libri di tutti i migliori formatori, ma ci sono tutte le frasi motivazionali, le mappe mentali. Poi vi mostro, adesso non voglio distrarvi perché la storia è bella. Quindi inizia a lavorare su di te, inizia a imparare, inizia a crescere, inizia a formarti. E questo mi ha dato una mano per mettere giù degli obiettivi a un tuo corso che ho fatto a Milano, adesso non mi ricordo il nome del corso, ma insegnava gli obiettivi, come mettere giù gli obiettivi lungo termine. Il bestia a riete, il miglior anno della tua vita. Per me è stato fondamentale perché all'epoca mi sono messo un obiettivo a lungo termine, dove che uno era un obiettivo, 100 milioni, all'epoca mi sembrava facessimo 10 milioni, quindi eravamo piccoli, sembrava un obiettivo irraggiungibile. Però mettere un obiettivo a lungo termine così, 100 milioni, 20 strutture in Italia, tutto quello che ho fatto da quando ho avuto il coraggio di metterlo in carta, quindi mi ho preso un impegno con me stesso, da tuo consiglio, quindi ti ringrazio per questo, perché ho ragionato adesso e ho capito che tutte le scelte che ho fatto da là in poi, il mio subconscio mi aiutava a decidere in base a quello. Dopo ovviamente il percorso è stato vario e misto, adattandomi le crisi a 100 mila cose, però questo è stato fondamentale. Non a caso ho arrivato i 100 milioni, ho cambiato e adesso mi sono messo l'obiettivo 200 milioni. Poi la facciamo vedere, lì dietro c'è una lavagna con un 200 scritto grosso così al centro. Perché dicono che la felicità è nel viaggio e io voglio viaggiare. Senti, allora, quindi parti da lì, primo mobilificio, aprite a Torino, inizia a formarti, inizia a leggere, diventi un appassionato della crescita e poi? Primo mobilificio, facevamo solo passaggio, lavoravamo col passaggio pubblicitario, poi abbiamo inserito vari canali, quindi abbiamo inserito i centri commerciali, quindi le promote test commerciali per appunto diffondere il nostro marchio, poi abbiamo iniziato a fare televisione pubblicitaria, pubblicità in televisione locale, poi abbiamo inserito il telemarketing e là, avendo fatto un bel know-how, abbiamo avuto la voglia di replicarlo. E quindi facciamo il primo test prova a Torino, apriamo a Redissimo a Torino SRL. Da là otteniamo un buon successo, quindi apriamo a Redissimo a Milano, apriamo a Redissimo a Modena e così continuando fino all'attuale, l'ultima sede aperta a Cagliari, strutture di 2.000-3.000 metri quadri di arredamento per il pubblico. Quindi adesso siete già più di 20 in giro per l'Italia, con prossime aperture, quindi? Con un business plan fino al 2026 di 4-5 aperture l'anno con l'obiettivo appunto di arrivare a 200 milioni, quindi adesso tra un mese apriamo Torino Nord, tra tre mesi apriamo Ancona, poi andremo a Alessandria quando sarà a maggio, eccetera, eccetera. Senti, una cosa che mi ha colpito di te, che sei sempre uno che ha avuto, soprattutto in un settore così tradizionale, il coraggio di innovare e di provare delle cose nuove, anche soprattutto dal punto di vista di marketing, cioè sei uno che il marketing lo sente e lo capisce, quindi sia dalla TV, i primi tempi, fino adesso dove tu lavori sui social con una, voglio dire, con un'attenzione, una qualità, un impegno, voglio dire, fare TikTok per arredamento mobili e avere lo specialista di TikTok per l'arredamento mobili sinceramente non è una cosa ancora così normale o così comprensibile ai più. Ci racconti un po' come hai, cosa hai visto da subito nella comunicazione, nella pubblicità e come sei partito da lì e arrivato fin qua? Sempre con la voglia di crescere, di trovare delle novità in un settore così statico e quindi anche la pubblicità televisiva, poi passare il telemarketing e alla fine, sette, otto anni fa, se non ricordo male, facevamo poco di web e abbiamo deciso di andare in in profondità per dire, può essere un canale innovatore, possiamo trovare la soluzione per aumentare, migliorare ancora di più il contatto con il pubblico, farci conoscere di più, fare arrivare i clienti nelle sedi e da là ho deciso, ho detto ok, dobbiamo creare un ufficio web, ho iniziato a fare i colloqui personalmente, avrò fatto circa centinaia di colloqui fino al colloquio ho conosciuto il mio responsabile attuale web che è Ardis Pietrangelo fatto, ho capito fin dal primo momento che era la persona che cercavo, sì perché era la colonna portante, per me serviva avere una sicurezza e trovare. Questo è interessante, quindi cento colloqui sono tanti, finché non hai trovato quello dici è lui, che cosa cercavi e come hai avuto la sensazione che fosse lui veramente la persona giusta, cosa ti ha dato questa certezza? Allora, oltre alla preparazione tecnica, era un ragazzo con tanta voglia di crescere e mi ha colpito la sua maniera di fare, ho capito che lui cercava me, io cercavo lui, lui cercava un'azienda che voleva crescere, che voleva innovare sul mondo web e di avere fiducia e io ho capito che io ero disposto a dargli fiducia piena per farlo crescere e far crescere incredissima e questo è stato fondamentale. E da là poi di fatto gli ho dato responsabilità massima, i colloqui assieme il primo periodo, poi ha deciso di farseli da soli, abbiamo cercato di selezionare talenti da vari posti anche in Italia, adesso abbiamo un team di circa 18 persone, chi specializzato in TikTok, chi in Facebook, in Instagram, chi in Google, Allora, una catena di mobilifici 18 persone solo per il web, ok? Quindi lavorate su tutto, su TikTok, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su SEO, ricerca Google, tutto, investiamo parecchio ma otteniamo un risultato incredibile perché a parte le visualizzazioni che sono importantissime ma alla fine quello che conta per noi sono lead generation, noi al mese circa abbiamo 80.000 lead generation, quindi un numero molto molto alto e da questo e con le prossime evoluzioni che ho anche delle strategie nuove che tra poco metterò in atto, punterò a aumentare di un 50% questi contatti. Quindi con il web 80.000 persone che vi contattano e che sono potenziali clienti e tanta roba. E' tanta roba. E' tanta roba. E' tanta roba. E' questo. 50 vuol dire arrivare a 120.000. Questo dà, questo dà i 70-80 milioni di fatturato quindi alla fine, quindi ho una concretezza e per me avere, è importantissimo, fin dall'inizio abbiamo voluto sempre fare delle cose nuove, inventarsi dei canali nuovi ma avere un metro in misura e noi abbiamo un metro in misura dell'incidenza che per quel canale vogliamo avere anche nelle varie persone. Noi abbiamo creato una serie di parametri per misurare le performance in modo che questo dà stimolo per alzare sempre di più lo standard di ogni singola persona. Ho imparato da te a un corso che mi hai fatto capire, era due ore che era focalizzato questo corso sull'alzare l'asticella, alzare lo standard. E per me è stato impresso. Ho detto come posso io far alzare la mia asticella personale, l'asticella dei miei collaboratori, delle persone che lavorano per me. E quindi creando dei parametri in modo da avere parametri di meritocrazia, uno dice ma no quello fa strada perché è amico, cugino. No, io ho voluto togliere da questa cosa perché l'avevo vissuta in fabbrica questa situazione e non mi piaceva. E quindi una serie di meritocrazia e anche i direttori stessi hanno il loro stipendio più hanno 6-7 meritocrazia in base all'andamento della propria azienda dove anche un parametro è la situazione dei clienti perché ovviamente soddisfatti dei fattorati, dei numeri ma il nostro cuore va al cliente e non a caso per noi la nostra visione è rispetto del cliente. Senti, quando avevo ascoltato il tuo intervento mi ricordo che avevi raccontato che c'era stato un momento in cui ti sei veramente giocato tutto. Hai detto o la va o la spacca. Quindi ci racconti quel momento, che decisione era e cos'è successo e poi dopo insomma. Non è stata solo una volta ma quella volta è stata un po' la più dura da affrontare. All'epoca volevamo crescere, lavoravamo con i passaggi che arrivavano in mobilificio e un po' con i centri commerciali e volevamo fare il salto di fare i spot televisivi sulle reti locali con la strategia dello zapping. Conosciamo questo Michelone che era il braccio destro di Semeraro che voleva staccarsi, ci insegna questa strategia. Cioè, Semeraro una volta. Semeraro era il numero uno di mobiliere in Italia. Quindi per me parlare con il braccio destro di Semeraro che aveva voluto staccarsi e mi è venuto insegnarmi come fare strategia per fare la pubblicità e come posizionarla. E quindi mi diceva, se vuoi che funziona, oltre a fare i spot da due minuti, cinque, dieci, devi anche investire parecchio. devi prendere sette, otto televisioni locali e investire. Faccio due conti tra la sua consulenza, tra la televisione, tra... guardo in faccia il mio socio e dico, Franco, se per caso non otteniamo risultati da questo investimento, penso che per due o tre anni o chiudiamo bottega o mangiamo pane e acqua, si suol dire qua il Veneto. E là è stato un momento molto duro e finché non ha iniziato i spot pubblicitari. Però c'è il creduto. Cioè, avete fatto quel passo, avete messo tutto quello che avevate credendo in quella strategia. La stessa cosa, la stessa cosa è stata fatta con meno rischio, ma durante la pandemia abbiamo investito tantissimo su quello che è il mondo del web. E quindi investimento altissimo, ma in automatico ci ha portato un ottimo risultato. Quindi il coraggio a volte di osare, di fare anche quello che... Assolutamente. Che spaventa un po', no? Assolutamente. E quindi passaggi a rischio come fare la prima apertura, sai, se un conto adesso, se dovessi aprire su un territorio che magari non funziona per mille motivi, in qualche maniera, lo chiudo e apro da un'altra parte. All'epoca, quando facevamo le prime aperture, voleva dire se non riuscivo, se non funzionava quel territorio dove c'era, voleva dire sofferenza pura, rischiare tutto per tutto. E a volte bisogna usare da imprenditori, bisogna farlo. Senti, adesso siete 500 persone, un'azienda grande, in espansione, un team... È stato bellissimo vedere anche qua in ufficio, hai fatto lo spazio ristorante, quindi ogni giorno si mangia qua con il cuoco che arriva, la zona giochi. Quindi tu sei uno che non ha paura di innovare e a me piace questa cosa in un settore così tradizionale, tradizionalista come il tuo, tu hai veramente... Cioè, ci sono ancora dei mobilifici che continuano a fare pubblicità come si faceva 30 anni fa e lui trova il testimonia su TikTok. Pensa anche a me stesso che derivo dalla produzione, quindi otto ore che tu dovevi fare un certo tipo di produzione per ottenere un certo tipo di risultato. A voler modificare, cambiare e quindi qua creare un ambiente lavoro dove quelli del web, se vuoi creare team, devi creare situazioni particolari. Ho creato una zona con le freccette che fanno il 501, 301, si mettono le sfide, io le ho fatto una vetrina con i vini al prezzo di costo, si prendono la bottiglia, stappano, fanno festa, la mettono in sfida e questo crea team e fa la differenza. Quindi non ha in sé il valore del tempo che uno lavora ma in cinque minuti può sviluppare un lavoro al team. Quindi la mission che hai scoperto quando hai fatto il leadership, i valori che hai tirato fuori l'hai proprio messo in pratica. Passione, amore proprio nel farlo ma anche nel farlo vivere la tua squadra e nel farlo percepire dai tuoi clienti, mi sembra una cosa molto bella. È fondamentale quando si va ai corsi, si legge un libro, di cercare, magari non si può in tutto, ma delle parti, quelle più che per ognuno sono più importanti, di cercare prima possibile metterli in atto. Questo ti porta a fare di farezza, ti fa crescere personalmente, ti fa migliorare. Allora tu sei uno che lo mette in atto non soltanto per i risultati evidenti che hai generato ma io vi devo dire entrare in questo ufficio per me è stata fonte di godimento. Perché è lui, è l'applicazione perfetta di tutto quello che insegniamo anche nelle piccole cose. Adesso mi diceva sta scrivendo un libro, io racconto sempre che quando scrissi il mio primo libro mi ero creato tutto l'ufficio per poter essere condizionato a scrivere il libro. Stava raccontando che sta facendo la stessa cosa, quindi adesso io voglio che facciamo vedere quello che da questa inquadratura non si vede ma qua dietro c'è una libreria. Adesso ve la mostriamo, adesso ve la mostriamo. Allora ragazzi adesso io vi faccio vedere questa libreria. Cioè allora tanto per cominciare mi dicevi che i libri, qua è l'ordine in cui è iniziato, quindi sono in ordine. Vedete il primo di Stephen Covey e diciamo che dopo poco sei arrivato, guarda qua ragazzi questa è la versione 2004, il primo leader di te stesso con Art Covey. Guardate come ero giovane, guardate. Bellissimo. E poi tutti questi libri, ma soprattutto io sono rimasto particolarmente grosso. Alza inquadratura qua, guarda qua, guarda qua. Allora, questi sono tutti i DVD che io ero un innovatore come te, all'epoca non le faceva nessuno sta roba qua, guarda. Vendere con successo, comunicare con successo, tempo di risultati, il bestia di Arieto, l'hanno migliore della tua vita e tutta la collana leader di te stesso con il libro anche qua. E qua, oh, qui li hai studiato per ore e ore e ore, perché mi dicevi che tu li hai viste tutte. Tutte, 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 tutte. Guardate qua. Viste e riviste. Guardate qua tutta la libreria, ma poi soprattutto a me fa impazzire. Allora, qui c'è la mappa mentale, una mappa mentale, qua tutte le frasi motivazionali, guarda, guarda che figo. Pensare al lavoro più duro, e questo è probabilmente il motivo per cui così pochi lo fanno. Einstein, le frasi di motivazione, e poi si può incadrare qua, scusate, io vorrei far vedere qua la saggezza veneta. Trese le robe importanti nella vita, ciavar, ciavar, se ne non fasse ciavar. Questa direi, questa direi che è prova veneta totale. Ma poi guardate, anche di qua, guardate qua, guardate qua, tutte le quattro abitudini per avere successo, le serie come per la vita, i cappelli per pensare di De Bono, piano per tutta la vita, bellissimo. Io impazzisco, le lavagne sparse qua e là con gli obiettivi, e qua è l'obiettivo quello grande. Cioè, guarda qua, i 200 per il 2024? I 200 2024-2025 e il come arrivarci. Quindi è tutta la mappa mentale per arrivare lì. E qua hai tutto, peraltro, non l'abbiamo detto, ma hai un altro giocattolo ultimamente con cui ti diverte un'azienda di... Una sfida personale di sei anni fa, quindi un'azienda cosmetica, dove siamo presenti in 500 passa farmacie, quanto quanta la linea Illeti, e di fresca di quattro mesi. Perché andando avanti con l'età vuoi diventare più... vuoi fare anti-age. Si prova, si prova a fare miracoli. Quindi ho capito, e poi dopo mi dai qualche... mi dai un po' di roba, mi smerci qualcosa sotto banco. E la linea Suavitas, che è per un network marketing che è iniziato da poco e sta ottenendo un ottimo successo. Bellissimo. Senti, ascolta, di tutti questi libri qua e di tutta questa... Dimmi tre cose importanti che tu hai imparato, applicato e che hanno fatto per te la differenza. Ce n'è tanta roba qua, ma dimmi le tre principali che cerchi anche di far applicare ai tuoi collaboratori. Una domanda difficile, perché è un insieme di cose. E quindi da quello che è la formazione personale, in tutto quello che è le tecniche di PNL per la comunicazione, quindi la comunicazione fa parte del nostro mondo, e quello che sono l'insegnamento per la gestione del lavoro, quindi con priorità, urgenze, oppure gli obiettivi, mettersi gli obiettivi a lungo termine. Ne ho tante cose che ho imparato. Perché la cosa bella è che tu l'hai fatto per te e l'hai trasferito ai tuoi collaboratori. Sì, sì, sì. E quindi è diventato davvero... Certe cose sono diventate le vostre linee guida. Quindi, bellissimo. Ottavio Sartori, storia bellissima. Persona che è partita da zero, con umiltà e con intelligenza, si è formato, è cresciuto, si è evoluto, ha rischiato, ha visto lungo. Veramente, storia davvero bella, Ottavio. Sono veramente contento che l'abbiamo raccontata e... E ne abbiamo ancora da crescere, eh. Se andate in un negozio arredissima, dite che conoscete il capo. Ci vediamo alla prossima puntata del mio vlog. Ci vediamo alla prossima puntata del mio vlog.